Sono esattamente 100 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo al Covid-19 di età compresa tra i quattro mesi e gli 83 anni, che portano il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia a 73.242. 24 i nuovi casi in provincia dell'Aquila, 41 in quella di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 22 in quella di Teramo con un residente fuori regione oppure con residenza in corso di accertamento. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 3.592 tamponi molecolari e 1.745 antigenici per un totale di 5.337 teste e un tasso di positività stabile all'1,8%. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore che porta il totale a 2.454, mentre i guariti sono 23 in più. La somma è salita 63.820, pertanto sono 6.968 gli attualmente positivi, 76 in più nelle ultime 24 ore, mentre rimane pressoché inalterata la pressione sulle strutture ospedaliere. 199 sono i ricoverati in area medica, 6 in meno rispetto a ieri, mentre 22 i ricoverati in terapia intensiva con tre casi in più nelle ultime 24 ore. Tutti gli altri 6.747 positivi in Abruzzo sono in isolamento domiciliare, 79 in più rispetto alla giornata di ieri.